Normalmente quando si scegli un mestiere c'è un motivo, c'è qualcosa di fondo che ti spinge a fare quell'attività rispetto magari a tante altre. Sicuramente lui ha questo da raccontarci, quindi non c'è sempre niente di meglio che farselo raccontare direttamente. Sicuramente il fatto di amare già la natura è un grandissimo passo che mi ha permesso poi di avvicinarmi successivamente. Io iniziai peraltro altri studi, scienze naturali, quindi non proprio direttamente legati a questo contesto, poi però ho deciso di cambiare proprio perché sentivo che quello che mi attraeva di più era proprio, sono passata da Agraria ovviamente, e mi attirava molto il fatto di poter coltivare e stare all'aria aperta, intanto che credo che chiunque di noi ami questo del nostro mestiere, e soprattutto potersi dedicare a una passione che si sente proprio e c'è poco da fare su questo. Sicuramente c'è questa passione tua innata che l'hai dimostrata, però io credo che alla fine l'appassionarsi alla terra, alla coltivazione, sia un po' come fecondare la terra. Quando si parla di mettere a dimora un seme, un semino, poi tu lo vedi crescere, germoglia, diventa pianta, diventa fiore, diventa frutto, e credo che questo sia lo spirito con il quale si sceglie di fare questa attività, crescere la natura. Assolutamente, è una metafora quasi di vita perché alla fine si crea veramente quando si mette quel piccolissimo seme nella terra, e si pensa poi che dopo qualche mese, parliamo ovviamente dell'orto in questo caso, si andrà a raccogliere dei frutti, ma non sono frutti gratuiti questi, sono frutti che sono, come dire, sintomo di una dedizione che gli abbiamo dato, una cura che ci ha costato del tempo, delle ore e della fatica spesso, quindi sicuramente è anche una metafora di vita l'orto. Bene, mi piacciono questi giardinieri giovani, mi piacciono perché hanno entusiasmo, e l'entusiasmo è alla base di ogni tipo di attività, soprattutto in questo, e mi piace soprattutto perché vedo un giovane che parla del futuro, che ha il futuro nella testa, e che comunque nel suo futuro c'è un occhio nei confronti della tradizione, e io questo l'ho scoperto perché girando l'orto ho visto ortaggi d'epoca, ho visto anche il tipo di coltivazione, che è quello che risciale alla tradizione, e mi viene in mente Giuseppe Verdi, grande musicista, grande coltivatore, lui diceva sempre ai suoi contadini che per parlare di futuro bisogna prima avere ben presente il passato, mi sembra che tutto questo stia accadendo qui a Casa Laiolo.